Niente più lunghe attese dalla diagnosi alle prime cure né pellegrinaggi fra medici diversi per individuare il trattamento più adeguato. L'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari prova a garantire tempi certi e un team di professionisti dedicato per i propri pazienti affetti da tumore al polmone per i quali di recente ha certificato il PDTA, il percorso diagnostico terapeutico assistenziale. Si tratta del primo ospedale pugliese a certificare tramite una società esterna internazionale il percorso di cura per malati di tumore al polmone. Fin dal primo accesso il paziente sarà guidato attraverso un percorso di cura dettagliato che comprende la corretta diagnosi della sua situazione clinica, la valutazione in un team multidisciplinare e l'accesso ai trattamenti più moderni ed eventualmente anche a trials clinici. Il percorso diagnostico terapeutico dell'Istituto Oncologico Pugliese si ispira alle linee guida dell'IOM, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica e garantirà per prima cosa una tempistica adeguata che andrà dai 22 ai 41 giorni dalla diagnosi alle prime cure, garantendo turni dedicati ai pazienti che decidono di entrare in questo sistema. In più tutti i casi del PDTA saranno discussi fin da subito non solo dall'oncologo ma anche dal chirurgo, dallo pneumologo, dal radioterapista e dal radiologo. Il paziente così non dovrà pegrinare da uno specialista all'altro per esami e terapie perché il suo caso clinico sarà discusso collegialmente e collegialmente saranno definite le prestazioni diagnostiche terapeutiche da lui più indicate. Domenico Galetta, responsabile della struttura dipartimentale di oncologia medica toracica, ha spiegato il senso di questa certificazione. È una cosa che avviene e deve avvenire spalmata per tutta la regione Puglia ma in questo istituto per primi siamo riusciti a certificare nei tempi, nella qualità e nella strategia e nell'efficacia per i pazienti con tumore polmonare che ricordiamo sono quelli a più alto impatto per incidenza e mortalità.